Oggi faremo una cosa un po' bastarda e senza precedenti, ovvero andremo a fare una comparazione tra l'RF 2470 f2.8 e l'EF 2470 f2.8, la prima versione. Quindi abbiamo qui due lenti, come potete vedere come dimensioni non sono neanche troppo diverse, anche se la versione RF, quella nuova, è più grosso sotto tutti i punti di vista. Andremo a fare una comparazione tra queste due lenti e cercheremo di capire qual è la migliore. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi vado a farvi una recensione fotografica. Più che una recensione è una vera e propria battaglia. Mi capita per puro caso di avere qui per le mani il bellissimo RF 2470 mm di Canon. Ottica ovviamente serie L, quindi anello rosso, super blasonata, una delle ottiche probabilmente migliori che la casa ha messo fuori di recente e infatti costa come un polmone e un rene. È un'ottica che ho già recensito sul canale, infatti vi lascio in card la recensione che ho fatto con anche gli esempi e i test di nitidezza di quest'ottica. È una lente che a me è piaciuta molto, ma come d'altronde mi è sempre piaciuta molto anche la sua sorellina più anziana. Questo qui è il 2470 primissima versione, quindi neanche la versione 2 che vedete montata sulla mia meravigliosa Canon EOS 6D, una combinazione che porto sempre con me molto molto volentieri. Ora, queste due ottiche sono fondamentalmente identiche, nel senso che dovrebbero fornire esattamente lo stesso range, quindi da 24 a 70 mm, e lo stesso diaframma, nel senso che sono entrambi diaframma fisso f2.8. Ora andremo innanzitutto a vedere un test della nitidezza per cercare di capire come performano le due ottiche, quindi cercare in qualche modo di capire al di là della lunghezza focale che è la stessa e al di là del diaframma che è lo stesso, se ce n'è una delle due che performa nettamente in modo migliore rispetto all'altra, oppure se bene o male se la cavano. Ci rivediamo qui subito dopo per trarre le conclusioni finali. Bene amici, avete visto? Test della nitidezza, che secondo me lascia anche un po' il tempo che trova a un certo punto, perché siamo comunque in presenza di due ottiche che performano bene, quindi sono ottiche con cui si lavora, sono ottiche con cui lavorano i professionisti, quindi secondo me possiamo anche lasciare un pochettino da parte la nitidezza, perché comunque sono ottiche buone. La nitidezza è assolutamente accettabile per entrambe. Passo ora a dirvi le mie considerazioni finali. Allora, devo dire che a me è piaciuta moltissimo l'ottica nuova, l'RF 2470 mi è piaciuto veramente tanto, io l'ho utilizzato su Canon EOS R5, vi lascio in card il video in cui vi parlo della mia esperienza con quest'ottica che è stata comunque molto ma molto buona e mi sono trovato no bene di più con quest'ottica. Secondo me quest'ottica vince di poco per lo stabilizzatore, perché il fatto di avere una stabilizzazione e una stabilizzazione potente anche, la rende molto ma molto più versatile della sua controparte un pochino più vecchiotta. Per il resto le ottiche se la cavano molto molto bene entrambe, quindi se stiamo parlando di sola fotografia, attenzione bene, il vecchio 2470 vale praticamente tanto quanto, anche se costa meno della metà, vale praticamente tanto quanto, perché comunque questa è un'ottica con cui si è lavorato per 30 anni, credo. Quindi è un'ottica assolutamente valida e rimane valida ancora oggi. Certamente questa è un'ottica esclusivamente fotografica, perché è un'ottica con cui possiamo fare un'ottima fotografia, ma facciamo molta fatica a fare video, a differenza di questa che è un'ottica pensata anche e soprattutto per video a parere mio. Riuscite a vedere l'anello di messa a fuoco come fluido? Guardate come gira bene, io non faccio nessunissima fatica a farlo girare, vedete? E questa è una cosa che mi agevola molto nel momento in cui devo focheggiare a mano durante una ripresa video, non solo, ma la stabilizzazione mi permette di fare dei movimenti di camera a mano e verranno perfettamente fluidi e meravigliosamente stabilizzati. Quindi quest'ottica secondo me vince per questo motivo. Poi devo dire che se andiamo sul prezzo, questa è più conveniente certamente, ma questa qui offre sicuramente delle feature in più. Vantaggio di questa, della vecchia lente, è che monta su entrambi i sistemi però, mentre questa qui funziona solo su mirrorless. Quindi queste sono le cose da tenere a mente. Sicuramente se siamo proiettati al futuro e vogliamo un sistema ibrido in grado di fare alla grande sia foto che video, possiamo pensare di andare sul modello nuovo. Se siamo come me alla fine, se siamo degli fotografi e stiamo pensando solamente alla parte fotografica, possiamo tranquillamente andare su quella vecchia che sicuramente non delude. Un'ultima nota dolente per quanto riguarda quella vecchia, vi faccio vedere questa cosa che a me non è mai piaciuta. Quest'ottica ha lo zoom invertito. Che cosa significa? Che se io la sto usando così, la sto usando a 70 mm. Nel momento in cui faccio questo e quindi ho zoomato avanti apparentemente, però questo è il 24. Questa è una cosa che a me non piace per due motivi. Intanto perché è controintuitivo e poi perché dover zoomare avanti quando stai usando il grand'angolo significa che per fotografia di interni dovrei rinculare di più perché il mio frontale dell'obiettivo è andato più avanti. Quindi dovrei rinculare e spesso non posso farlo. Quindi questo è un handicap. Invece se sto fotografando delle persone e voglio usare il 24, se sto facendo così, quindi sto zoomando tutto avanti, una persona a cui sono vicino si sente intimidita dalla zoomata. Quindi io preferirei, se devo fare la zoomata, preferirei essere lontano così che non venga percepita. Sulla nuova ottica questa cosa è stata riveduta in maniera corretta. Così siamo a 24 mm e nel momento in cui andiamo a zoomare siamo a 70 mm. Io preferisco di gran lunga questa configurazione. Inoltre devo dire che lo spazio che si mangia durante la zoomata è inferiore. Quindi questa qui è un'ottica che è più lunga di base, però nel momento in cui vado a zoomare non guadagna altrettanto spazio. Ok, vedete? Riuscite a vederla? Normalmente il 24-70 RF è più alto del suo predecessore, però lo spazio in più che si mangia è inferiore a questo. Quindi da questo punto di vista secondo me ci sono diverse cose che sono state riviste e sono state riviste bene su quest'ottica. poi è un'ottica comunque stellare, mi ha veramente impressionato. Ha un diametro di 88 mm, dov'è che sta scritto? 82, scusate. Ha un diametro di 82 mm, quindi è più larga e è più larga perché probabilmente sul nuovo sistema hanno dovuto ingrandirlo perché per dare questo range di zoom hanno dovuto ingigantire un po' tutto. Infatti è pesante. Se andiamo a fare una comparazione tra le due, io credo che pesino fondamentalmente uguale, il che rende questa un pochettino più difficile da gestire perché su un corpo mirrorless che pesa di meno, quest'ottica pesa molto in avanti. Io vi dico, l'ho tenuta in mano per 12 ore filate durante un lavoro, quindi non è certo il peso che ci impedisce di portarci a casa il lavoro, però ammetto che non è leggera, non è un'ottica leggera, non è un pancake, non è un 40 mm, non è un 50 mm, è pesante. D'altronde si sente che è costruita bene, quindi è un peso che ti dà soddisfazione, è bello da tenere in mano. Sono entrambe belle da tenere in mano. A questo punto io vi lascio spazio nei commenti e vi chiedo, secondo voi qual è la migliore delle due? Avete avuto la possibilità come me di provarle entrambe? Ce n'è qualcuna che vi è piaciuta di più, qualcuna che vi è piaciuta di meno? Le utilizzate per foto o per video? Per cosa le utilizzate? Fatemelo sapere nei commenti. Mi ricordo anche se non foste già iscritti al canale che potete farlo subito cliccando il bottone rosso qui sotto, attivate anche la campanella per non perdere le notifiche e io vi ringrazio per aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento a questo punto. Al prossimo video.